questa è la cassa che deve essere ancora chiusa all'interno sono stati posizionati tutti i colli e nuovamente con pluriball e scotch adesivo come vedi vengono messe anche le indicazioni di non mettere altra merce sopra la cassa con il relativo indirizzo la cassa ha uno spessore di 18 mm poi ti farò il nuovo video a cassa chiusa grazie